Siamo contenti che voi siate qui con noi così numerosi per una ragione molto semplice, intanto perché noi abbiamo voluto intensamente questa conferenza stampa e l'abbiamo voluta per rafforzare quelli che sono i rapporti che da tempo portiamo avanti in questa che abbiamo chiamato un po' un'alleanza, un'alleanza per l'Italia, ma un'alleanza di tipo orientato prevalentemente ai bisogni dei malati rari di cui ci sono io, mi conoscete tutti quanti che sono il coordinatore dell'intergruppo delle malattie rari, qui in sala ci sono molti colleghi, saluto prima di tutto il collega Marinello e poi molti altri colleghi che ancora non vedo ma che so che hanno promesso di essere presenti qui con noi. C'è Annalisa che conoscete tutti quanti voi che è la presidente di Uniamo, c'è dall'altra parte Ilaria che è la mens comunicativa di Omar e c'è Simona Bellagambi che è l'interfaccia europea, membro di Euroordis, interfaccia europea di tutto questo lavoro. Noi abbiamo desiderato profondamente costruire questa sinergia tra le associazioni di pazienti, il mondo della comunicazione, lo scenario italiano e lo scenario europeo, le istituzioni per quello che noi facciamo perché desideriamo in tutti i modi porre una serie di domande che si aspettano risposta, non dico oggi ma si aspettano risposta in termini di fatti, nei prossimi giorni, al viceministro. Io vi pregherei, non vi sembra una cosa inusuale, ma vi garantisco, fidatevi che se lo merita, vi pregherei di dargli un applauso. Perché fino a ieri era il nostro presidente in commissione in Senato e vi garantisco che è stato capace di tenere insieme quello che abitualmente sono gli opposti estremismi. Voi avrete sentito parlare delle convergenze parallele. Bene, quella che fu un'impresa che sembra che non abbia raggiunto gli obiettivi, invece il nostro ex presidente, past president, come si dice, è stato capace di farlo in commissione. Per questo lo abbiamo investito di una quantità di aspettative e di speranze che vi garantisco già con la metà sarebbe più tranquilla. Già speranza come ministro. Allora c'è il ministro speranza e c'è il viceministro che è la nostra speranza. Quindi noi desideriamo che oggi lui ascolti queste voci, dopodiché sarà un dialogo il più attento, il più collaborativo. Io direi come succede in queste reti di associazioni anche profondamente orientato alla stima reciproca, io direi in moltissimi casi anche all'affetto reciproco perché dietro di molti di voi conosco i ragazzi che ci sono, le famiglie che ci sono, le realtà concrete che si vivono e il desiderio di poter dare risposte concrete a tutte queste persone. Quindi Pierpaolo se tu permetti prima darei la parola alle associazioni, quindi analisa e poi dopo entriamo piano piano nel vivo delle cose. Tra i presenti c'è anche Francesco Macchia ma lo conoscete tutti che è una specie di prezzemolo, non c'è attività che tratti di malattie rare e che non veda Francesco nel cuore dell'attività stessa. Oggi per qualche misterioso motivo è dall'altra parte ma è solo una pura casualità. Fatta pezzeria, una volta tanto. Allora questa richiesta della senatrice Binetti mi coglie un attimo di sorpresa perché pensavo di sentire il viceministro parlare prima di me così potevo poi eventualmente imputargli qualcosa o chiedergli qualcosa di più specifico. Allora il mio appello lo sentiremo dopo da Simona sulla risoluzione da Simona Bellagambi che è qui alla mia sinistra della risoluzione ONU che riconosce le malattie rare e quindi dà un'importanza particolare a tutto quello che è il mondo e la comunità dei malattie rare che io oggi mi onoro di rappresentare indegnamente ma comunque è toccato a me e le richieste che facciamo sono prima di tutto di attenzione perché è un mondo variegato che ha tanti bisogni, tante necessità e ci sono già dei percorsi che devono essere ripresi e lo sentiremo nel corso della conferenza stampa, cose per le quali siamo all'avanguardia in Italia come il percorso SNE, terapie innovative che stanno cominciando a entrare sul mercato e per le quali va trovato un'adeguata sostenibilità economica all'interno del nostro servizio sanitario ma alla base di tutto ci sono le persone con malattia rara. L'ultimo censimento ne conta 780 mila, noi pensiamo che siano largamente sottostimate, ognuna di queste rappresenta oltre che se stessa ha una famiglia intorno che ha tutta una serie di necessità, costi sociali elevatissimi e quindi un'attenzione veramente particolare a questo mondo che ha una dignità estrema ma ha anche tanti bisogni che devono essere soddisfatti. Il mondo del malato raro è composto da tutto quello che ho detto prima ma è composto anche da possibilmente lavoro, tempo libero, sport, tutte dimensioni che vanno integrate. Il tema della giornata delle malattie rari quest'anno era stata integrazione fra sociale e sanitario ed è importantissimo e soprattutto abbiamo lanciato l'idea di una visione olistica, quindi non guardiamo più i singoli aspetti ma cerchiamo di integrare tutti gli aspetti che riguardano la vita del malato raro, che veramente sono tanti, in modo da vederlo come persona e non più semplicemente come paziente o malato. Grazie, Annalisa e adesso Simona per quella che è stata proprio la ultima diciamo delle disposizioni ONU che tra l'altro riguarda anche in particolare questi pazienti come un diritto consolidato. Tenete presente che noi leggiamo queste cose in termini di diritti, non solo in termini per così dire di magnanimità o di benevolenza che sono ingredienti indispensabili ma assolutamente insufficienti. Quindi a te la parola Simona, Simona è una grandissima esperta. Grandissima, grandissima esperta, grazie e ovviamente sono la zia di una ragazza con una malattia rara. L'esperienza me la sono fatta esattamente come tutti voi e adesso collaboro a livello europeo con Euroordis perché lo dico così con fierezza perché Euroordis insieme ovviamente alle alleanze nazionali quindi è riuscita a raggiungere quello che è un traguardo per noi epocale, non ultimo ma lo è perché avere anche se con una brevissima menzione in un paragrafo alle malattie rare dentro la dichiarazione firmata, sottoscritta dai 193 stati membri sulla copertura universale, sanitaria universale, significa dare non solo dignità ma visibilità a una comunità, non è l'unica, ma una comunità che purtroppo negli anni è sempre stata invisibile, è sempre stata messa da parte per questo frainteso che rarità significhi pochi. L'ultimo studio fatto da Orphanet è pubblicato recentemente dice che a livello mondiale è confermato che sono oltre 300 milioni le persone affette da malattia rara. Se insieme a loro, come è stato detto da Annalisa, mettiamo le loro famiglie, i loro carers, i medici, questo rende noi, e dico noi, il terzo paese al mondo per popolazione. E credo che questi siano numeri importanti e sono esattamente questi numeri, insieme a tanto studio, insieme alle position paper, insieme a tutti i rapporti, gli incontri che negli ultimi tre anni Eurordis, che è l'organizzazione europea delle malattie rare, insieme a Rare Disease International, che invece è l'alleanza a livello globale, sono riusciti a perorare e a portare e a raggiungere questo obiettivo che ovviamente è soltanto perché ho detto non è il traguardo finale, perché il nostro traguardo è una risoluzione ONU sulle malattie rare. Ma questa è sicuramente una pietra miliare. Grazie. Grazie a tutti voi. Adesso Ilaria, perché come avete sentito il termine che ritorna molte volte, è il termine visibilità, perché se non è un po' una patologia del nostro tempo, però bisogna prenderla per quello che è. Se non appari, se non sei visibile, se non sei sotto l'occhio dei riflettori, in qualche modo non esisti. Quindi l'idea, diciamo, che sia, come dire, apparsa nella dichiarazione ONU, questo riferimento ci aiuta a sdoganare contro l'inerzia, contro l'anonimato, che soffriamo da tanto tempo rispetto a questo problema, tante patologie, comprese le patologie, come voi sapete, che non hanno ancora nome. Ilaria ha un sito che penso che tutti voi consultiate anche ogni volta che ne avete bisogno, trovando abbondanza e aggiornamento di dati. Quindi le siamo tutti comunque molto grati. E a lei una parola importante in questo momento, in termini di comunicazione. Grazie. Sempre queste premesse bellissime, mi fanno veramente piacere. Allora, quello che... il motivo per cui siamo qua oggi è quello di apparire, appunto, di dare voce. Per questo c'è Osservatorio Malattie Rari. Osservatorio è soltanto la voce dei pazienti, in primo luogo. E quindi vogliamo dare voce ad alcune richieste. Queste richieste vanno, ovviamente, verso il nuovo ministro, verso la politica. Sono cinque richieste, ma io mi soffermo solamente su tre di queste. E sono dei punti, questi cinque punti, sono tutti spunti di attività che si possono fare velocemente, perché non richiedono molto tempo, e in alcuni casi addirittura risolvere dei problemi a costo zero. Questo è importante, perché stiamo andando verso la legge del bilancio e lì bisognerà far tornare tutti i conti. Il primo punto è quello che è già stato ricordato, il piano nazionale delle malattie rare. Un anno fa se ne parlava già, e siamo ancora lì, e so che qualche lavoro è andato avanti, però il piano non c'è. È già scaduto da tre anni, ed è fondamentale che questo lavoro venga preso e portato a conclusione. Possibilmente, a differenza di quello che è avvenuto in passato, mettendoci dei fondi sopra. Perché a costo zero, in questo caso, essendo il piano una cosa molto grande, poco si può fare. Nel passato piano qualcosa è stato fatto, più per buona volontà di chi ha voluto metterci le mani, che non per materiale possibilità di farlo. Si è fatto veramente più di quello che era possibile. E di questo dobbiamo essere grati all'intergruppo parlamentare e dobbiamo essere grati ai pazienti, che hanno lavorato veramente tantissimo per portare a casa i risultati che ci sono stati. Uniamo chiaramente per primo. Una cosa che voglio dire sul finanziamento del piano è che io ne avevo già parlato un anno fa, durante la polemica, che tanto ricorderete più o meno tutti, con l'ex ministro Grillo, che era nata dalla revisione della norma sul payback farmaceutico. In quel caso, per effetto di questa revisione, una parte consistente di fondi era stata sottratta al mondo dei farmaci orfani. Dato che non si poteva più far nulla per quella norma che ormai era passata, avevo detto al ministro, va bene, allora compensiamo in qualche modo i malati rari mettendo un finanziamento sul piano nazionale delle malattie rare. Quindi io mi auspico che almeno questa compensazione possa esserci. Poi se si riesce anche a sistemare il cambiamento che era stato fatto in passato sul payback, meglio, non sarebbe poi così male. Il secondo punto, che mi sta particolarmente a cuore, dei cinque che abbiamo presentato, riguarda l'accesso alle terapie, in particolar modo all'innovazione terapeutica. E non intendo innovazione nel senso tecnico, ma innovazione è tutto ciò che arriva nella vita del paziente, la migliora e la cambia radicalmente. Quindi può andare alla terapia avanzata, al farmaco orfano o ad altro. Noi sappiamo che circa il 90% delle malattie rare esistenti non ha una terapia. Ma nel caso in cui la terapia c'è, per il paziente un giorno più o un giorno meno è importantissimo. Pensate se parliamo di 100 o più giorni di differenza rispetto a quando lui potrebbe averla. Ecco perché ho detto 100 giorni. Perché esiste una normativa che si chiama appunto la 100 giorni, per cui la contrattazione deve concludersi in quel tempo lì, nel caso dei farmaci orfani e di altri farmaci classificati in maniera particolare. Purtroppo il risultato è che questi 100 giorni dal rapporto Osfor del 2018 arrivano a 226-228 giorni mediamente e temo, e qui vado ad anticipare qualcosa, che il dato del nuovo rapporto potrebbe essere anche un po' peggiore. Vedi, macchia mi conferma di sì il rapporto lo fa lui, quindi è anche peggiorato. E quindi vuol dire che i pazienti hanno un accesso di circa tre mesi e oltre, è ritardato alle loro terapie, ma c'è anche di peggio, perché la normativa dei 100 giorni riguarda la contrattazione nazionale. Quando poi un farmaco passa alla contrattazione nazionale, in Italia arriva a livello regionale, e lì abbiamo altri ritardi. Ma non è un ritardo uniforme su tutto il territorio, per cui i pazienti italiani aspettano uniformemente, ma c'è chi aspetta più, c'è chi aspetta meno. E qui generiamo disegualianze, e il Ministro Speranza sulle disegualianze è stato chiaro, bisogna eliminarle. Quindi io mi auguro che anche su questo possa intervenire. La soluzione ci sarebbe, sarebbe adottare per i farmaci orfani lo stesso criterio e lo stesso metodo che si usa per i farmaci innovativi. Quindi anche dal punto di vista tecnico non è una cosa complicatissima da fare, però bisogna avere ben chiaro al presente il problema. Grazie Ilaria, grazie. Anche perché siccome conosco tutti i ritmi, lui tra pochi minuti deve andare a rappresentare il Governo nella Commissione, come sicuramente ricorda il nostro Presidente. Quindi con tutto quello che ha ascoltato il Vice Ministro, non ti resta che darci delle risposte che sono a tutto il mondo. Sono ricondato. Sì, infatti per questo abbiamo voluto che tu ascoltassi prima. Innanzitutto ringrazio la senatrice Binetti che è stata per me una guida appena entrata al Senato. Io non sono avvezzo alla politica poiché nella vita faccio il chirurgo e quindi è stata la prima che mi ha accolto e ha avuto anche degli ottimi consigli. Vorrei sottolineare ciò che lei ha detto, cioè che in sanità, almeno in Commissione, abbiamo sempre lavorato bene poiché abbiamo messo da parte il colore politico. La sanità non ha colore politico. Non esiste il giusto e lo sbagliato. Esiste il giusto al quale abbiamo cercato tutti di tendere sapendo che il giusto non lo raggiungi. Lo vedi, cerchi di arrivarci e quando lo hai raggiunto c'è sempre un nuovo giusto a cui devi tendere. E' questo che abbiamo fatto noi in Commissione. Ed è quello che cercheremo di fare ora che siamo al Governo con tutti. Io non credo nelle opposizioni, credo che ci sia del giusto ovunque. Anche nelle opposizioni credo che ci sia qualcosa da dover ascoltare. Oggi siamo qui a parlare di malattie rare, quindi ringrazio Uniamo, la federazione delle associazioni dei pazienti, l'osservatorio. Ringrazio la signora Cibinetti come presidente dell'Intergruppo. Ora, vorrei unirmi a ciò che è stato appena detto cioè sottolineare quella che è la sofferenza di coloro che hanno una malattia rara che vivono una doppia sofferenza. La prima è la sofferenza della malattia amplificata però dal fatto che a questa sofferenza si aggiunge l'odissea diagnostica che i pazienti e le famiglie e le famiglie dei pazienti perché spesso si tratta anche di bambini piccoli soffrono perché non sanno trovare la prima risposta che è la diagnosi e poi una seconda risposta chiaramente delineata che è l'assenza di una terapia e quindi il nostro impegno chiaramente deve essere questo facilitare la diagnosi abbiamo detto i numeri ma i numeri sono probabilmente largamente sottostimati cioè se diciamo un milione di pazienti affetti da malattie rare e io non chiamo pazienti, previsco chiamarle persone persone un milione è un numero anche sottostimato e vicino a quella persona c'è una famiglia che soffre e quindi è moltiplicato per un numero X ora dobbiamo migliorare quello che è il percorso diagnostico quindi quel percorso anche oneroso proprio perché si tratta di famiglie che non riescono a fare una diagnosi che corrono da un ospedale a un altro da uno specialista all'altro senza spesso trovare una risposta nell'immediatezza spendono soldi soldi che purtroppo quando si tratta di famiglie povere non possono permettersi ecco il ritardo nella diagnosi ora il piano nazionale di malattie rare è prioritario non dico per me perché sarebbe assurdo dire per me è prioritario per tutti coloro e dovrebbe essere prioritario per tutti coloro che sono al governo quindi sono sicuro che il ministro Speranza il sottosegretario Zampa e il sottoscritto su questo la pensiamo nella stessa identica maniera la prima seduta del tavolo di lavoro è stata il 12 luglio è seguita una seconda riunione un'altra a fine settembre e adesso ve ne sarà un'altra che è fine ottobre l'obiettivo principale è quello di agevolare innanzitutto la rapidità di diagnosi che senza diagnosi non può esserci una terapia quindi per far questo sarà necessario anche i suoi risorse sì perché a volte basta riordinare quello che si ha a volte è solamente il sistema che si è così incastrato su se stesso che fa spendere dei soldi e basterebbe riorganizzare riordinare quel sistema e trovare le risorse come? beh prima cosa fare rete le eccellenze in Italia ci sono il nostro servizio anitario nazionale funziona si può attaccare a volte sappiamo che ci sono ospedali che zoppicano ospedali a cui sono stati fatti dei tagli e zoppicano perché sono stati fatti i tagli ci sono sicuramente cose che non dovrebbero accadere ma è molto più facile parlare di qualcosa che non funziona che diffondere quello che funziona è come quando si va in un ristorante andate a leggere subito le recensioni su TripAdvisor che non sono buone ma vicino ce ne sono tantissime che funzionano il nostro servizio ha dei numeri penso al cancro migliore sopravvivenza in Europa chi è che cura il cancro? il nostro servizio sanitario nazionale quindi funziona beh dobbiamo farlo funzionare anche per le malattie rare iniziare a fare rete per far sì che il paziente trovi facilmente dove andare a fare diagnosi che possa trovare facilmente lo specialista che può aiutarlo e questo si può fare i suoi risorse sono competenze che noi già abbiamo e andare anche fuori dai nostri confini perché è chiaro che quando si tratta di malattie rare e grazie alla genetica oggi la stessa malattia rara ha sotto delle ulteriori categorie sarà necessario fare rete con ciò che è fuori dal confine nazionale e quindi ecco di ausilio anche l'Europa poi ho sentito parlare del payback e sono pienamente d'accordo lo dissi anch'io lo scorso anno è un qualcosa che deve essere corretto così come un'azione dovrà essere fatta su Ilea tante patologie aspettano da troppo tempo un inquadramento inquadrare significa curare penso per esempio allo screening neonatale noi investiamo 25 milioni di euro e dico investimento perché sottolineo la parola investimento proprio in antitesi alla parola costo che è quella che abbiamo sentito e parlo da medico adesso in tanti anni investimento questo è un investimento la popolazione che sta bene la signorice Binetta parlava di silos non so se ha detto chi ha parlato di silos ok scusate basta parlare di salute come cura guarigione guarigione significa produttività produttività significa prodotto interno lordo produttività significa che se una persona sta bene i familiari stanno bene pensate a quante 104 vengono utilizzate ogni anno per gestire ed aiutare i nostri familiari che stanno male sociale e sanità stanno insieme quindi questo governo e credo che il Nadef lo indichi molto bene nella parte sanitaria sottolinea l'importanza dell'assistenza sociale in connubio con la sanità malattie rare saranno una nostra priorità quindi ve lo garantisco avete chiesto di dare voce prima si ascolta e poi si dà voce con dei fatti quindi le porte del ministero sono sempre aperte quindi io parlo e sono sicuro di parlare a nome anche del ministro Speranza del sottosegretario Zampa noi ci siamo cercheremo di non lasciare nessuno indietro servirà del tempo perché la bagheta magica non esiste ma come dicevo all'inizio tenderemo verso il giusto cercando di ridurre quanto più possibile le disegualianze considerando che la malattia purtroppo rende tutti quanti uguali e ognuno di noi non è esente da malattia grazie vi prego di fermarvi adesso il viceministro sì che deve andare in commissione perché peraltro dobbiamo votare il parere al documento questa programmazione economica e grazie a te ti raggiungo appena finiamo qui però fermatevi perché adesso noi vogliamo chiamare qui al nostro tavolo anche Carlo Fornario di Teleton perché in qualche modo ci dica anche dove sta andando la ricerca ci sono diverse forme di ricerca come sapete c'è una ricerca che è finanziata dalle grandi case farmaceutiche c'è una ricerca che è finanziata anche dallo stesso ministero della salute pensa a tutta la ricerca che si fa all'indirx ma c'è anche una ricerca del tutto particolare in Italia che finanzia molti progetti e progetti molto interessanti che sono i progetti di Teleton e quindi a te Carlo Fornario dici qualche cosa su dove sta andando in termini di malattie rare la ricerca di Teleton intanto ovviamente grazie mi fa piacere allacciarmi immediatamente alle parole del del vice ministro questo cambio di paradigma tra costi e investimenti si presta bene alla riflessione sulla ricerca lo stimolo che ci sentiamo di dare che stiamo portando al tavolo che sta curando il nuovo piano nazionale delle malattie rare è quello sicuramente di diciamo goderci questo momento di grande attenzione a voi tutti il merito per averla veramente resa mai come in questo momento bipartisan però va mantenuto sempre chiaro anche la responsabilità che questo momento così positivo genera perché la ricerca si è dimostrata in questi ultimi anni effettivamente capace non solo di curare che era un po' la promessa l'ha fatto con dei tempi che non vogliamo più permetterci per il futuro oggi si presta questo tipo di approccio per un lavoro a pettine non più diciamo verticale e l'unica di rimente per la velocità che riusciremo a imprimere alla nostra ricerca a questo punto saranno i fondi disponibili e delle strategie realmente condivise che evitino dispersioni e duplicazioni in quest'ottica ben sapendo che i fondi comunque quelli sono e che quindi bisogna anche ingegnarsi perché nel rinno di altri allora l'appello che troverete poi diciamo come risultato del lavoro di oggi è quello di copiare un po' quello che è successo in altri settori dell'economia pubblica dove quando risorse non ce n'erano si sono creati i presupposti fiscali perché soggetti virtualmente non interessati potessero gradualmente interessarsi allora lo stimolo che ci sentiamo di dare in quest'ottica e di apprendere quello che di buono hanno creato ad esempio strumenti come l'art bonus o lo sport bonus che hanno reso interessante per i privati quindi non più soltanto per l'azienda farmaceutica attraverso il beneficio fiscale il sostegno di programmi che chiaramente sotto il controllo del Ministero della Salute possano portare ricerche e fondi alla ricerca non soltanto alla ricerca clinica ma anche alla ricerca preclinica perché non dimentichiamoci che tanto più fondi assorbirà la ricerca clinica quanti meno saranno quelli a disposizione di quella diciamo di base ed essendo così tante non sto a ripetere i numeri le patologie per le quali oggi è urgente darsi da fare è evidente che dobbiamo trovare una forma di compensazione per non lasciare indietro nessuno quindi in quest'ottica noi veramente sposiamo con grandissimo entusiasmo di interesse iniziative come queste qui e saremo sempre disponibili a collaborare anche perché i fondi che poi saranno in qualche modo accantonati vengano spesi nel miglior modo possibile questo è un altro dei temi i risultati ottenuti dall'Italia sono stati possibili grazie a un metodo molto rigoroso e a una competizione aperta per cui guai di nuovo a chiudersi in silos il mio da una parte la salute dall'altra gli IRCS ma creiamo le condizioni perché i fondi disponibili siano veramente a disposizione dei migliori a prescindere dal cappello che indosseranno grazie questa è stata anche una novità di quest'anno che Teleton partecipasse al piano nazionale delle malattie rare non era mai successo ma succede anche perché bisogna trovare delle sinergie positive diciamo tra pubblico e privato anche perché in realtà non c'è niente di così pubblico come la malattia da tutti i punti di vista quindi anche è giusto creare le sinergie positive per affrontarle per gestirle per risolvere poi devo dire che i piani che i progetti di ricerca che Teleton porta avanti finanzia incoraggia oltre a essere un'iniezione di ottimismo straordinario per i nostri giovani ricercatori diventa davvero un elemento di speranza ancora una volta penso che questo sarà un governo in cui avendo un ministro che si chiama speranza non potrà che marciare nella linea della speranza per dare concretezza a tutte le cose che voi avete sentito fino adesso perché quindi voi ve le possiate portare nel cuore e nella mente ma anche perché il ministro e il viceministro e il sottosegretario si portino nella mente e sul tavolo esattamente le cose che ci siamo detti noi abbiamo pensato che voi se volete è un rituale già utilizzato in tante volte per noi ci è sembrato importante lanciarlo noi adesso insieme a voi firmeremo questa lettera di cui poi quelli di voi che avranno voglia di voglia di averne copia a parte trovarla sul sito però basta che ce la chiedano e potranno averne tranquillamente copia noi la firmeremo la lettera indirizzata al ministro speranza e al viceministro della salute e contiene esattamente le cose che ci siamo detti ma le contiene per un motivo molto semplice perché non accada mai che qualcuno dica non lo sapevo o che qualcuno dica hai ragione me ne ero dimenticato o qualcuno dica sì è vero ma davanti a tutti voi in maniera se volete così collegiale che non è un modo originale però vuole essere incisivo e stabile noi firmiamo questo accordo che poi se volete vederlo lo lasciamo qui sul tavolo vieni a te Anna Lisa quindi contiene tutto quello che abbiamo detto il discorso che ha fatto Simona il discorso che ha fatto Anna Lisa il discorso che ha fatto Ilaria il discorso indirettamente anche che hai fatto tu però il ministro lo sappia e lo sappia proprio per iscritto nessuno dica non lo sapevo o nessuno dica non avevo capito le cose che chiediamo sono poche chiare strutturate e pubbliche pubbliche quello che abbiamo detto oggi qui quello che abbiamo scritto oggi qui quello che pubblicheremo oggi qui arriverà al ministro che non c'era ma comunque al cui arriverà anche attraverso la persona del viceministro e direttamente al viceministro ed è un pezzo di mondo che è uscito dalla logica dei silos perché è il mondo delle associazioni perché è il mondo della comunicazione perché è il mondo della ricerca perché è il mondo delle istituzioni nazionali ed europee questa è la nostra sfida di oggi non c'è uno solo che chiede ma siamo tutti insieme che in modo corale chiediamo aiutateci anche voi ognuno attraverso la propria associazione ognuno attraverso la propria associazione di malati della propria società scientifica attraverso i propri organi di comunicazione ognuno di noi si senta parte di questo progetto condiviso a vantaggio esclusivo dei malati rari che non significa che altri malati non hanno uguali diritti uguali esigeni significa che noi in questo momento assumiamo in prima persona la responsabilità e la sfida nei confronti loro ci saranno altri che giustamente faranno altre altre battaglie però noi abbiamo detto basta a quella sindrome del non esiste basta all'invisibilità basta all'anonimato qui abbiamo associazioni persone realtà che vogliono contare e quindi tutti insieme raggiungeremo l'effetto di massa critica per poterlo fare vi ringrazio se ci avete delle domande da fare noi abbiamo ancora a disposizione perlomeno una ventina di minuti quindi possiamo rispondere alle vostre domande possiamo ascoltare le vostre testimonianze abbiamo bruciato un po' i tempi perché il ministro il viceministro doveva andare quindi per questo siamo andati un po' come dire veloci non nelle nostre cose però siamo qui a disposizione vostra quindi chiunque voglia prendere la parola sappia che lo ascolteremo molto volentieri grazie buonasera sono Rosa Ioren sono la presidente della federazione italiana FIMARP che raccoglie le associazioni sul territorio nazionale che riguardano la fibrosi polmonare idiopatica in più ho anche la presidenza di quella romana un respiro di speranza a proposito di Teleton io mi ero avvicinata a Teleton per cercare di chiedere un'attenzione maggiore nei confronti della fibrosi polmonare idiopatica che è stata in qualche modo derubricata non è più malattia rara ma è malattia cronica questo vuol dire che si sta allargando il numero delle persone che hanno purtroppo questa diagnosi infelice alla quale non c'è cura per la quale non c'è cura l'unica cura possibile è il trapianto di polmone ma non tutti lo possono fare al momento esistono soltanto due farmaci che rallentano la progressione della patologia ma non curano dicevo mi ero avvicinata a Teleton per chiedere se fosse possibile fare qualcosa anche per loro e io non ho la patologia sono stato un caregiver per dieci anni però mi sembra che Teleton abbia un'attenzione maggiore nei confronti dei bambini per carità dei giovani assolutamente giusto e condivisibile però ci sono anche gli anziani perché purtroppo è una patologia che colpisce mediamente intorno ai 50 60 anni anche se abbiamo purtroppo all'attivo la conoscenza di persone di ragazzi nati con la fibrosi pulmonare idiopatica quindi si sta diciamo manifestando sempre di più una componente genetica e a questo proposito io avevo chiesto la possibilità di fare una ricerca in questo senso perché una componente genetica c'è ma ancora non è accertata pienamente c'è un'ipotesi la mia domanda è questa Teleton può intervenire anche in questo senso grazie della domanda perché mi consente più che altro di riportare il focus sulle nostre attività noi diciamo non abbiamo delle classificazioni di approccio in base all'età chiaramente del paziente nemmeno all'età di insorgenza della sindrome noi ci occupiamo di malattie catalogate come rare e lo facciamo con degli strumenti che sono i nostri bandi research driven come si dice in gergo tecnico ossia tra le 7000 malattie rare note destiniamo i fondi a quei progetti che di bando in bando sono più meritevoli senza per questo non indirizzare però su un'attività specifica o su un tipo di patologie specifiche non sono un tecnico in quest'ambito quindi mi permetterà poi magari di fare ulteriori approfondimenti credo che se il tema dell'essere stata derubricata a patologia non rara purtroppo per noi diventa inconsalutario la fibrosi polmonare è una patologia rara è una patologia rara esente ha un codice quindi su questo non mettiamolo in dubbio perché è stata una conquista anche faticosa questa è la prima cosa poi mi permetto di aggiungere una cosa per Carlo per tutti la fibrosi polmonare è una malattia che probabilmente ha una componente genetica infatti ci sono delle forme familiari però non è una malattia che ha una causa genetica ben chiara per cui credo che sia questo il problema di Teleton nell'intervenire in quella patologia lì infatti la mia domanda era proprio posta in quel senso cioè vogliamo andare a vedere che cosa c'è dietro la patologia se non si comincia forse non si scopre secondo me però la domanda è corretta ma è posta all'interlocutore scorretta spiego per quale ragione perché lui il Teleton interviene sui progetti scritti quindi la domanda va posta ai medici ai ricercatori ai biologi che si occupano di questa patologia perché loro scrivano un protocollo di ricerca diciamo che abbia gli standard qualitativi da vincere anche la concorrenza con gli altri protocolli di ricerca perché la sfida è fatta sulla qualità dei protocolli di ricerca e non sulla patologia e non sulla capito sul tipo di patologia quindi tu questa domanda che ti dico perfettamente corretta io potrei girartela in un altro campo di cui mi occupo molto che è l'autismo che è patologia senza cause conosciute e senza terapia sufficientemente stesa ma non quindi non rientra tra le patologie erare però ha questa triste come dire eredità di non avere cause note e di non avere nessun farmaco se non alcune cose sintomatiche che si possono prestare quindi anch'io che mi occupo moltissimo di questo tema peraltro se tutti voi siete interessati siete invitati lunedì prossimo allo Sturso dove facciamo un incontro proprio tra l'altro su autismo e arte perché dico questo? perché in assenza di farmaci pensate e qui rientra il tema posto del sociale ciò che aiuta molti di questi ragazzi è quello che potremmo chiamare una sorta di art therapy quindi noi ci troviamo davanti a una complessità di problemi che veramente nessuno di noi è in grado di gestire comunque per rispondere a te sollecita i tuoi ricercatori i tuoi clinici perché vincano la sfida del miglior disegno di ricerca possibile in modo che tu poi possa approvarla aspetta c'era un signore là dietro aspetta dietro c'era un signore che ha alzato la mano ok ok allora passa il microfono brava tenilo qui grazie buonasera a gestire oltre 180 associazioni mi inchino alla sua capacità di gestione buonasera io sono Daniela Iannone a una forma intermedia di atrofia muscolo spinale la mia diagnosi è stata fatta all'incirca quando avevo un anno ora ne ho 37 e ad oggi io non sono riuscita ad accedere a nessuna cura farmacologica anche se come diceva giustamente prima la senatrice che un giorno fa la differenza la sperimentazione si è fermata al venticinquesimo anno di età quindi io per 12 anni sono fuori ma sto fuori da quando avevo un anno perché quando ero piccola non c'era nulla adesso che c'è sto fuori dalla sperimentazione perché sono troppo adulta e si aspetta che il farmaco venga messo per tutti però appunto come si diceva un giorno potrebbe essere troppo tardi perché come come dicevo la malattia è degenerativa e peggiora di giorno in giorno cioè se io aspetto che si metta sul mercato ed è per tutti perché non ho più 25 anni e non ci sono rientrata per me fra una settimana fra 10 giorni potrebbe essere troppo tardi quindi perché non c'è attenzione anche per gli adulti però c'è una maggiore attenzione per i bambini per lo screening neonatale d'accordissimo ok che non nasceranno più bambini con l'asma sono felicissima però noi che ce l'abbiamo siamo i bambini che fanno tanta tenerezza oggi in tv quel bambino che oggi fa tanta tenerezza in televisione sarà un adulto fra 15 anni e non farà più pena sarà un adulto come me io ad oggi non faccio più pena a nessuno quindi sto fuori da qualsiasi cosa perché non si sposta l'attenzione anche sugli adulti tu non fai pena perché sei una donna in gamba intelligente che lotta e che è determinata quindi pena non fai sicuramente scherzo desti ammirazione stima e apprezzamento da parte di tutti prima quando si parlava della fibrosi cisti siopatica mi viene in mente l'altra fibrosi cistica l'altra fibrosi cistica quando sono usciti i primi farmaci efficaci per l'altra fibrosi cistica inizialmente la somministrazione fu pensata perché questa è la difficoltà un progetto di ricerca l'eccellenza di un progetto di ricerca la misurì anche dal rigore con cui vengono stabiliti i criteri di inclusione e i criteri di esclusione per essere certa che quel farmaco sia veramente efficace in quel caso e ci siano le minore interferenze possibili ma insomma questo per dire che all'inizio era riservato a un certo tipo di pazienti con un certo tipo di mutazione con un certo tipo di contesto molto circoscritto quando si è visto che funzionava poi in un tempo veramente ragionevolmente breve perché la fortuna era che il farmaco funzionava fu estesa anche a tutti gli altri quando è uscita la terapia per l'epatite C ricorderete tutti che è una terapia carissima inizialmente fu riservata perché perché è la legge della ricerca che te lo impone devi definire devi definire dei parametri però una volta visto che quella terapia funzionava adesso la terapia che non è una patologia rara però adesso la terapia dell'epatite C che vi dico sembrava fino a pochi giorni fa sembrava tra le più care che esistessero adesso ne esistono di altre terapie ancora più care per altre patologie allora fu estesa cioè questo che adesso in questo momento a te sembra un costo direi ancora più drammatico da accettare perché prima non c'era e quindi eri rassegnata che non ci fosse adesso che c'è ti chiedi perché non è per me allora facciamo insieme tutti un atto di speranza che funzioni e vedrai che sarà estesa più funziona meglio funziona e prima sarai stesa anche a te se faccio in tempo speriamo di farcelo allora se posso aggiungere una cosa a quello che la signora ha già egregiamente spiegato l'impegno che come federazione di pazienti noi stiamo mettendo sia sull'HHT dei piccoli numeri sia sul fatto che le sperimentazioni per le malattie rare data la scarsa numerosità cerchino di non rispettare quelli che sono i parametri stretti di numerosità del campione richiesto perché poi una terapia possa essere considerata efficace noi su questo ci stiamo muovendo da anni e stiamo cercando di far sì che si cambi proprio in relazione al fatto che le malattie rare non possono avere gli stessi parametri pur dovendo rispettare comunque i criteri di sicurezza per il paziente perché non possiamo nemmeno fare le cose a caso ma che comunque ci sia un ridimensionamento delle certificazioni richieste di tutto il tempo e le procedure che possono essere specifici per le malattie rare proprio in considerazione di quello che tu hai appena detto e del fatto che appunto la numerosità del campione non è mai elevatissima grazie scusa finisco velocemente che anche a livello europeo è esattamente a questo modo siamo noi stessi che dobbiamo esigere lo stesso rigore questo nell'esperimentazione clinica nel portare avanti la ricerca questo non vuol dire che parallelamente non ci dobbiamo impegnare ad essere inclusi in un dialogo sempre più precoce che preveda anche nuovi meccanismi esattamente come abbiamo fatto con Osfor nello studio perché in effetti le sperimentazioni cliniche nelle piccole popolazioni creano problemi quindi ripetendo dobbiamo agire parallelamente ma non dimentichiamoci purtroppo è vero capisco la tua situazione ma il rigore è necessario lavoriamo insieme perché invece noi come rappresentanti delle persone che vivono malattie rare possiamo avere la voce anche nello sviluppo di nuovi meccanismi che possono permettere un'accelerazione e ovviamente anche nello spingere sempre per maggiori finanziamenti alla ricerca buonasera io parlo nome di tutti i malati in Italia di encefaleomilietta e mialgica sindrome da fatica cronica parlo per tutti i malati perché ora alla maratona patto per la salute tutte le sei associazioni presenti in Italia quindi ho dato voce abbiamo presentato delle richieste al Ministro e quindi in attesa di risposta sono qua e cerco di presenziare tutti i convegni che ci sono istituzionali si sa che non è riconosciuta in Italia sappiamo che in tanti paesi dell'Europa è riconosciuta e anche del mondo si stimano 17 milioni nel mondo e si presume un 200 250 mila in Italia purtroppo è anche pediatrica quindi attendendo i tempi per un riconoscimento che da quel che ho capito sono un po' lunghetti ci sarebbe forse anche la necessità di creare una circolare se possibile e questo mi è stato detto anche da un responsabile dell'Inps in modo che possano valutare come malattia effettivamente reale ci sono degli studi internazionali dove ci sono tutti studi che identificano la malattia quindi accertata la problematica dell'avere la circolare o no è anche il fatto per i bambini che frequentano la scuola ci troviamo come genitori ad affrontare minacce di arrivo dei carabinieri di denuncia ai carabinieri del sindaco perché i ragazzi una volta che si ammalano non riescono più a frequentare la scuola e quindi ci troviamo anche appesantiti da questa necessità di affrontare e giustificare una malattia già difficile nella gestione e soprattutto nel giustificare con le istituzioni i ragazzi poi che sono a casa da scuola fanno fatica a fare un percorso ministeriale quindi bisognerà anche là mettersi un attimino a tavolino e creare un piccolo programma ad hoc perché altrimenti devono abbandonare la scuola e il diritto allo studio questo l'ho vissuto perché sono mamma di due figli su quattro con questa patologia questo nella chiavetta che mi hai dato c'è tutto? Allora nella chiavetta ci sono i documenti ufficiali presentati a nome di tutte le associazioni le richieste fatte al ministro e tutti gli studi internazionali se ci sono gli strumenti intanto cominciamo col preparare un'interrogazione al ministro perché comunque c'è al di là del problema generale di associazione c'è un problema concreto puntuale cominciamo col preparare un'interrogazione noi abbiamo in Veneto qualche medico che si sta dedicando in modo volontario e sta seguendo bisogno di formazione medica in modo che si possa capire a fondo anche questa malattia non differente lo facciamo prestissimo la ringrazio aspetta la domanda di prima della ragazza con l'asma scusami non mi ricordo il nome allora nel tuo caso specifico al di là che loro hanno pienamente ragione dell'importanza di richiedere il rigore nell'esperimentazione e l'importanza per il paziente in primo luogo nel tuo caso specifico poi va verificato tutto chiaramente prendilo con una cosa da verificare io credo che tu possa parlare con il tuo medico per valutare se lui può fare una richiesta di uso compassionevole gli l'hai già chiesto? sto fuori da qualsiasi parametro sia per forma che per età anche per il compassionevole sì quindi se il tuo medico ha valutato anche questo probabilmente no però mediamente in questi casi qua la legge proprio prevede questi percorsi paralleli proprio per garantire chi rimanesse fuori dalle sperimentazioni che ci sia un'altra via sono dei casi eccezionali però sono previsti io ad oggi prendo soltanto il salbutamolo per sentire un po' meno la stanchezza nei muscoli però è un paliativo più che altro psicologico per me per sapere che prendo qualcosa però comunque la malattia fa il corso non ha cioè non ho né cambiamenti né miglioramenti non ho capito tu ora ti arriva il micro buonasera grazie io volevo solo portare la testimonianza di quello che può fare la ricerca pubblica nel caso delle malattie rare noi io e Laura Lenea qui in casaccia sono un primo ricercatore anni fa pochi anni fa una collega scoprì che la figlia aveva una malattia rara ci fu una una mobilitazione uno di noi ha cominciato a pensare a cosa si potesse fare per questa malattia che era una glicogenosi per la quale non c'era nessuna nessuna terapia e niente ci siamo dati da fare in vari modi autofinanziati diciamo tirando fuori dei finanziamenti della ricerca abbiamo ottenuto qualche risultato l'abbiamo proposto al congresso internazionale delle glicogenosi ad Heidelberg lì entrammo in contatto con l'associazione italiana glicogenosi che da allora ci aiuta pagando una persona abbiamo avuto dei buoni risultati alcuni pubblicati altri ancora in corso di pubblicazione e niente volevo far presente che essendo noi un gruppo che ha lavorato sempre su altre cose non abbiamo una tradizione di malattia rara Teleton per noi era inaccessibile abbiamo chiesto di partecipare con altri gruppi forti ci hanno un po' snobbato per scoprire poi che hanno preso finanziamento da Teleton per sviluppare farmaci con i francesi che adesso è la company francese che sta proponendo una terapia genica virale per questa malattia cosa che insomma noi col nostro ingegno con la nostra anche perché questo rapporto diretto tra ricercatore e associazione dei pazienti che ci gratifichano da morire è stato un moltiplicatore di energie e anche di entusiasmo laddove vedevamo che la nostra ricerca prendeva una brutta piega abbiamo rivoltato la frittata e troviamo nuove idee da sviluppare e in particolare volevo far presente che proprio questo problema dei pazienti pediatrici e dei pazienti adulti cioè la glicogenosi tipo 3 di cui noi ci stiamo occupando ha un'evoluzione che nel bambino è prevalentemente epatica nell'adulto diventa muscolare e proporre una terapia di tipo adenovirus cioè genetica con terapia genica virale è inappropriato secondo noi per cui bisognerebbe lavorare sul paziente adulto e trovare delle terapie localizzate per loro perché di fatto è una distrofia una distrofia asimmetrica strana e quindi ecco l'altra cosa che voglio dire sono orgogliosa poi che il mio ente sulla base di queste idee ha lanciato un programma che si chiama Proof of Concept piccolo finanziamento dove noi abbiamo intercettato una company una italiana per sviluppare una nuova terapia genica non virale proprio per questo tipo di patologie allora ecco diciamo che noi sono anni che andiamo avanti con l'aiuto dell'associazione tra l'altro io faccio parte del consiglio diciamo scientifico dell'associazione andrò a Parigi a breve per un discorso del registro dei pazienti insieme ai francesi insieme a Genetron ci sponsorizzerà per capire perché è anche importante sapere i numeri la associazione italiana ne registra un certo numero ma sicuramente è più che doppio anche qui è un problema sapere chi sono questi malati la distribuzione dell'età è fondamentale anche per ipotizzare delle cure perché le cure possono essere differenti a seconda dell'età perché in particolare questa che conosco un po' meglio io non sono medico sono biologa però quindi ecco voglio far presente che è veramente complesso e questo mondo che non è solo teletone mi scusi ma andrebbe finanziato anche in altri modi laddove poi l'industria è poco interessata proprio per un discorso di numeri sì che le malattie sono tanti ma la glicogenosi parliamo di 60 pazienti in maniera ufficiale quindi veramente poco interessante ecco grazie voglio cogliere chiudiamo adesso perché alle 4 dobbiamo chiudere però voglio cogliere una cosa due cose molto positive di quello che avevi detto prima di tutto la relazione di prossimità tra i pazienti le associazioni e i ricercatori come uno nutre la speranza dell'altro e in un certo senso riorienta anche i processi perché quando prendevamo una strada che non dava frutti ci spostavamo verso un altro asse mantenere questa sinergia un po' quello che abbiamo fatto anche noi dietro questo tavolo cioè mantenere come avete fatto voi la sinergia tra le associazioni e i ricercatori compreso poi la capacità di interessare le istituzioni di riferimento a cui voi vi siete rivolti no no per carità ma non è facile niente nemmeno la nostra e utilizzare come slogan questo un no non è una risposta un no vuol dire che è semplicemente un'altra tappa devo cercare un'altra strada devo come dire oppure come diciamo noi la distanza più breve tra due punti non è una retta molte volte la distanza più breve tra due punti è un lungo giro che dobbiamo fare ed è quello che separa la diagnosi del bisogno e il risultato che si ottiene comunque noi vi ringraziamo veramente siete stati un grande punto di riferimento perché sicuramente il ministro vi ha guardati in faccia e si è reso conto di avere davanti una forza una forza di persone di motivazioni anche direi soprattutto di bisogni di diritti di sofferenze di speranze che è la dimensione umana di tutto questo lavoro che facciamo quindi vi ringraziamo per essere stati qua sicuramente se state qui perché qualcuno vi ha mandato un invito e quindi noi vi rimanderemo altri inviti prossimamente su questo argomento e sappiate che potete contare comunque a livello europeo a livello nazionale delle associazioni a livello della comunicazione e sì anche a livello della ricerca non c'è solo Teleton ma ringraziamo Dio che c'è anche Teleton grazie infinito a tutti grazie possiamo andare grazie grazie grazie